Ben ritrovati dal vostro Diego. Questa è la classifica della competizione. Non è stato facile, ma ben fatto. Grazie. Grazie a tutti. 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 Il distacco dalla vettura che ti segue aumenta di un secondo a giro. Grazie a tutti. Alcune informazioni su Norris. Sembra che abbia un problema. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Grazie a tutti. Ehi piano con quei sorpassi. È stata una mossa molto rischiosa. Potevano darci una penalità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte. 2,0 secondi. La finestra del pit stop è aperta. La finestra del pit stop è aperta. La finestra del pit stop è aperta. Facciamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. È il momento buono per il pit stop, rientra il box alla fine di questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra il pit stop, rientra il pit stop, rientra il pit stop. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se l'attraversi ci vecchiamo una penalità per guida pericolosa. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box alla fine di questo giro. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box alla fine di questo giro. La vettura che ti precede ha appena montato gomme dure. Gomme a mescola dura per la vettura davanti. Gomme a mescola dura per la vettura davanti. Gomme a mescola dura per la vettura davanti. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box alla fine di questo giro. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box alla fine di questo giro. E' un momento buono per il pit stop, rientra il pit stop. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box alla fine di questo giro. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box alla fine di questo giro. Distacco dall'auto davanti, 2,7 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Il distacco dal tuo compagno di squadra è 37,8 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Accelera, l'auto dietro di te è a 4,6 secondi Ok, il distacco è 2,5 secondi. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Il sottoscocca ha preso una mozza, ma nulla di serio. Stiamo raggiungendo la vettura. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,7 secondi. Stiamo raggiungendo la vettura. Stiamo raggiungendo la vettura. Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato, ma niente di serio. Stiamo raggiungendo la vettura. 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 Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ok, bel sorpasso. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa i risultati. Ok, ultimo giro. Abbiamo carburante sufficiente per altri 3 giri. Ok, ultimo giro. Ok, ultimo giro. Ok, ultimo giro. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. E' stata la Mercedes a vincere. Che gara! Mozzafiato! Dimmi un po', Davide, cosa pensi sia stato il fattore decisivo per la vittoria di oggi? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto. Bisogna mantenerla costante per un intero stit, se non per tutta la gara. Quindi, riuscire a tenere un buon tempo sul giro senza sforzare troppo le gomme e la vettura, si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa e ne hanno tutto il diritto. Giorgio Russell conquista la vetta della classifica piloti, quindi diamo un'occhiata alla classifica piloti. Oggi abbiamo visto talenti eccezionali in pista, ma tu, Davide, chi indicheresti come protagonista del giorno? Ci sarebbe più di un candidato, ma credo che Giorgio Russell debba spuntarla di misura. Oggi è guidato senza sbavature, per la gioia dei suoi fan. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Beh, che finale per un altro favoloso fine settimana di corse. Grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci al prossimo episodio. Grazie a tutti.